Allora intanto fa il suo ingresso alla squadra della Slovenia che ieri si era classificata un'ultima in questa classifica. Ma come abbiamo detto per loro è proprio un esperimento, una novità perché per molti anni, se non fosse da sempre, hanno sempre partecipato con le ginnastiche individualiste ma praticamente quasi mai con la ginnastica, con il gruppo, con la squadra. La squadra 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 La squadra